il calavetta lo appoggia un pochino dentro non parlare troppo cosa tu? prima visione come fai? tu per cui se le hai fonte ti danni stendere le cannelli no parla per bagliare se fai? vieni la fai vieni la fai vieni la fai non so la piccarilla non so non so ripigliato fai faci faccio un gerretto non significa gerretto una picca una picca ormai abbiamo sculpato erano ieri uh ci farai indietro la pigliato la tende con i due hai fatto con la piccola ieri la tende con i due no no non mi piace che tocchi uuuu crede che ce lo faccio in prende oh ma io li so c'è poco da nessuno no 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 si uscirà da un'altra parte dove lo saltare sempre torno si uscirà un 70 con ieri torna metta lì per terra ma va bene comunque il giamma di questo avremo ma mamma scrive che cazzo qua non c'ho ieri ti ha fatto un penne sparrare non c'è che ti faccio sparare a me non c'è un numero uno non c'è un numero uno invece dell'incidente dell'oncino a me poi c'è la sua istruzione di dire ah no 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 non c'è un numero uno il 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 numero uno tutto suono dai esatto il numero uno benissimo